Ciao, oggi sono a Lanciano, città dalle antiche tradizioni, nota per il miracolo eucaristico e per le sue fiere. Voglio mostrarti un appartamento duplex. L'immobile ha una posizione strategica, perché è a pochi metri dal centro della città, a pochissimi chilometri dalla costa dei Trabocchi, dalla Val di Sangro e dalla Maiella. Eccoci all'interno di questo duplex. Alle mie spalle c'è la scala che è l'anello di congiunzione tra il piano inferiore e il piano superiore. Qui abbiamo una grande stanza, una grande zona di ink con l'agricoltura e un affaccio all'esterno. Sempre qui, al piano inferiore, abbiamo una camera matrimoniale, grande, spaziosa, luminosa e con la faccia all'esterno. Un bagno con doccia. Un'altra stanza. Adesso ha di vita a salotto, ma che potrai trasformare in un stand, un studio, un ufficio o sala giocca per i libri. Da piano inferiore, adesso ti mostro il piaccio dei loro libri di questo spalle duplex. Viamo! Eccoci giunti nella zona notte del duplex. Una zona notte ma saldata. Nella zona notte troviamo due camere da letto matrimoniali, di cui una con un balcone verandato. La zona notte troviamo due camere da letto matrimoniali, di cui una con un bel bambino verandato. Un bagno con vasca, doccia e un grande gucernaio. Quello che vedi alle mie spalle è una cabina armadio ricavata da questa nicchia. Arrivati al termine della nostra video visita, ti riassumo quello che ti ho fatto vedere. Ti ho mostrato un appartamento in duplex in uno stabile vicinissimo al centro di Lanciano, così composto. All'ingresso troviamo una zona living con un angolo cottura e una faccia all'esterno. Poi un bagno con doccia, una camera da letto matrimoniale e una camera adesso adibita a salotto ma che potrei trasformare in studio in ufficio. Salendo su al piano superiore troviamo una zona notte impreziosito da legno e parchè dove troviamo due camere da letto matrimoniali di cui una con un balcone verandato. Un bagno, un vasca, doccia e un bellissimo gucernaio. La proprietà si completa con un garage di 34 metri quadri. Per saperne di più ti aspetto in agenzia per mostrarti alla persona. Gavetti e sei già a casa. Ciao! Ciao! Ciao!